Buongiorno, sono Giulio Cappellini. Perché Jasper Morrison? Perché a mio parere Jasper Morrison è uno dei migliori interpreti del design industriale che va al di là delle mode, degli stili e delle tendenze e soprattutto un design industriale che crea dei progetti e dei prodotti senza tempo e con delle forti radici. Quindi dei progetti assolutamente contemporanei perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di radici, abbiamo bisogno di qualcosa che ci comunichi una profonda cultura dell'abitare e dell'essere. Perché Lotus? Perché Lotus rappresenta la perfetta sintesi del pensiero progettuale di Morrison, una perfetta sintesi tra processi produttivi industriali e tocco finale dell'artigianato tipico del made in Italy. Quindi una perfetta interpretazione del mondo e del pensiero di Cappellini. E sono assolutamente convinto che Jasper Morrison, al di là di tutti gli altri designer che collaborano con l'azienda, sia veramente un interprete perfetto e preciso del nostro pensiero.